Un po' lo devo a questi oltre 30 anni di collaborazione con QVC, sai che noi abbiamo iniziato con QVC America ce l'hanno chiesto dagli Stati Uniti questo brand, ce l'hanno chiesto dall'Estremo Oriente in realtà, devo essere sincera, abbiamo già fatto la prima fornitura agli Stati Uniti ma l'abbiamo stoppata perché il lancio internazionale lo volevo fare qua per QVC e per tutte le mie affezionatissime amiche che mi hanno accompagnato in questi 8 anni in Italia ho fatto due post con i miei bracciali, si sono tutte innamorate, vi siete tutte innamorate io ve lo dovevo, ve l'avevo promesso e quindi per la prima volta in tutto il mondo lo vedete voi questa è Duo, è la prima e unica collezione al mondo che voi potete collezionare, personalizzare ma non con l'incisione sul gioiello uguale a tutti ma con i vostri charm che sono stagliate microfusi, vi faccio vedere esattamente come funziona la prima, tutte le lettere che vedete azzurre sono in preordine quando vi arriva il preordine, regia? 19 dicembre, quindi arriva per Natale, sono in preordine perché sono già finite la consegna è garantita per i 19? è garantitissima, non vi preoccupate seconda cosa, vedete due codici, perché vedete due codici? perché uno, quello che state vedendo adesso, 622,259 è la variante argento rodiato l'altro è ovviamente argento placato oro facciamo vedere come si cambiano questi charm